Iniziamo dalla partita giocata nel fine settimana scorso, innanzitutto perché è stato un punto di rottura rispetto alla serie positiva che si era precedentemente verificata. Il direttore tecnico Trillini ha parlato innanzitutto di intensità difensiva che è venuta meno rispetto alle precedenti partite. Non posso che essere d'accordo, una partita piatta la definirei. Abbiamo iniziato e finito la partita sulla stessa linea, non c'è stata una reazione, anche se all'inizio il risultato era positivo, ma i ragazzi devono capire il prima possibile che il sabato le partite non sono mai morte fino a che l'arbitro non fischia il sessantesimo alla fine. Io credo che questa partita gli sia servita proprio per capire questo perché non c'è mai niente di scontato, soprattutto nelle ultime giornate quando giochi contro squadre che lottano ancora per la salvezza e il rischio di incappare in queste sconfitte gli ultimi secondi c'è sempre. È una squadra giovane e quindi devono crescere sotto questo punto di vista. È un trend, questo un po' in uso idale, che considerate ancora in questo momento della stagione normale per una squadra così giovane o ci si arrabbia adesso quando si perdono le partite così? Quando perdiamo ce ne abbiamo sempre, ma a mente fredda siamo consapevoli che abbiamo ragazzi di 17 anni che non sono abituati a gestire questi climi quando le partite si diventano infuocate. Ma diciamo che questo è l'obiettivo del campus. Noi abbiamo chiamato qui questi ragazzi per farli crescere il prima possibile sotto tutti i punti di vista e chiaramente quando giochi nelle tue squadre, gli ultimi minuti la palla viene data a quelli più esperti. Qui i più esperti non ci sono, abbiamo tutti la stessa età, abbiamo tutti la stessa esperienza e vogliamo far crescere tutti lo stesso modo con questo tipo di partite. Reagire dopo una sconfitta è un'occasione che ci auguriamo di no, ma potrebbe capitare anche durante un campionato europeo, per esempio quest'estate. Quindi la partita contro Follonica è un'altra opportunità di crescita in questo senso? Indubbiamente noi andiamo a giocare all'europeo, nessuno si aspetta di vincere tutte le partite. Chiaramente le sconfitte arriveranno, i ragazzi devono essere concentrati per le partite che tra virgolette ci servono a noi. È chiaro che se andiamo a giocare contro la Croazia e contro la Spagna sono partite test, le partite vere saranno altre e i ragazzi devono essere pronti anche dopo sonore sconfitte a lottare per le partite che si possono vincere e per i punti che ci serviranno per l'obiettivo che vogliamo ottenere. A livello di gioco, come staff tecnico, qual è la vostra valutazione in questo momento, che è uno dei pochissimi, rari direi, momenti della stagione in cui c'è quasi tutta la rosa? I giocatori di movimento sono tutti a disposizione, a parte Albanesi che è un portiere. Siamo soddisfatti, infatti stiamo inserendo qualcosina di nuovo, stiamo cercando di recuperare al 100% i lungodegenti, tipo Zanon che sta ritornando al 100%. Adesso ci tocca inserire i ragazzi che faranno parte della nazionale, abbiamo ancora tanto tempo per poter lavorare tutti insieme, il percorso è in salita ma è bellissimo.